salve ciao a tutti benvenuti a questo nuovo videozzo e oggi vi parlo dell'avo per te di campagna 8 novità in campagna 9 quindi le anteprime da prendere vediamo un po cosa c'è di bellezza da condividere perché dobbiamo poter condividere tutto anche i campioncini soprattutto campioncini prodotti più amati sono rossetto ultramatt 100 per cento ricco di colore matt e 100 per cento comfort il fondotinta power stay 24 ore con 24 ore di copertura a lunga tenuta a prova di sbavatura smalto c'è in sette giorni di colore e lucentezza da salone mascara 59 last genius 5 benefici per le ciglia matita contorno occhi green stick colore scorrevole ad alto impatto a lunga tenuta poi abbiamo viziero per capelli absolute eccolo qua e poi si vede di male eccolo ma l'olio d'argan per capelli più resistenti e nutriti i prodotti che consolidano di acquisti dei clienti per accrescere business tutti i prodotti irresistibili che hanno fidelizzato i clienti perché non li mollano più e quindi aumento di guadagni il siero a new world power sette potenti benefici per la pelle in soli sette giorni con il proteinolo ha vinto anche il premio inglesi meditano award e illumina la pelle la nutre la fa rinascere e rinforza al collagene perduto collagene di tipo 3 e 1 poi il tuo effetto lifting contorno occhi e dell'anio con sempre proteinolo technology per promuovere e rinforzare l'effetto lifting poi le fiale cosmetiche sempre arricchite di proteinol con skin reset che stimolano la produzione del collagene e si vedono risultati dopo sette giorni la crema da giorno a new platinum spf 25 il fattore solare di protezione per rafforzare l'effetto lifting sulla pelle non solo i sette giorni vedremo risultato il zero potenziatore della luminosità alla vitamina c a new radiance per una pelle più radiosa e più luminosa diciamo la vitamina c di 30 arance poi abbiamo fare way avon beyond che sulla pelle lascia un gradevole profumo scusate però io poi cambia anche gli occhiali perché con questi a parte sono più zossi però vabbè c'è un po meglio e poi abbiamo il tta today today o dei parfum con fragranza floreale lavano attraction per lei e per lui fragranza fruttata per lei e legnosa per lui andiamo avanti con i prodotti più amati per il viso e qui c'è un set che contiene zero renewal power a new la matita contorna occhi clima e stick avontro e gel crema antiocchiaie per consulenti 24 euro e 50 per consulenti socie 20 euro e poi c'è l'altro set che contiene a new platinum crema d'aggiorno e far away beyond perfum mascara 5 in 1 avontro con questo codice così io ve l'ho allargato e così lo vedete bene poi c'è cento per cento matte cento per cento comfort con quattro rossetti c'è un pezzo per codice per consulenti a 18 euro per consulenti social 14 euro oppure con otto rossetti 24 euro consulenti e 19 80 consulenti socie con le varie tonalità e abbiamo la caratteristica che sono molto amati questi a poi molti per mutazione master la vitamina c eccolo qua che grazie alla vitamina c e la pelle diventa più giovane più radiosa e ben nutrita e protetta dal sole una protezione solare del 50 per 50 scusate qui chiudono molto livemente le porte e queste sono le caratteristiche vitamina c ad azione potente e stabile protegge da danni che possono essere causate dalla luce blu che è dovuta da cellulare eccetera da raggi uviare usatemi che protezione antiossidante da fattori di stress esterni come l'inquinamento e dono un aspetto matte tutto il giorno con una vitale luminosità altro siero altro forza if prive novità della linea e questi sono prezzi e le caratteristiche sono petali di c'è il sommino menta mela rossa poi olio legno di cedro e c'è edp quello spray da borsetti e lozione corpo perché usati in sinergia sicuramente prolungano la fragranza andiamo con petit attitude happy dog perché chi ama le cucinelle questo è proprio perfetto e praticamente sa di ciliegia gelsomino e vaniglia è un bellissimo regalo se si può vedere fa una certa figura andiamo avanti full speed si arricchisce di una nuova fragranza full speed surfer sempre alla ricerca della carica di adrenalina per questi nuovi maschietti per i maschietti e c'è sempre l'energetica mi menta piperita lime e olio di paciulli indonesiano ed eccoci qua e serve a esaltare la vitalità la qui c'è il set poi naturalmente chi ordina una quantità può fare anche avere dieci campioncini il nuovo look e dei prodotti preferiti cambia appunto lo spray fissante un'altra volta e diventa magic spray fissante prep set spray eccolo qua nuovo look anche per la matita per sopracciglia perfect bro ad azione modellante per sopracciglia perfette perché c'è una parte interna che inizia a definire anche se come si fa inizia a definire le sopracciglia allineate che all'estremità dell'ora energice arcate il punto più alto delle sopracciglia dovrebbe essere in linea con centro dell'occhio e la narice parte finale concludi le sopracciglia modellando in linea con l'angolo esterno dell'occhio e anche qui come usare lo spray fissante basta spruzzare una distanza di 20 25 centimetri dal viso prima del backup come base oppure dopo per fissare io faccio se prima che dopo faccio prima e come si vaporizza con un movimento atti dalla fronte verso il centro del viso e poi un movimento un diagonale però io faccio un po si poi alana il big intense call con una punta morbidissima burro di karité per un'applicazione uniforme colore a lunga tenuta prova di sbagliatura che lo sfumino è perfetto per creare un effetto più smoky e un trucchetto di usare lo sfumino anche per creare un effetto delicato più soffuso per una giornata alla spa io consiglio sempre l'asciugamano microfibra per un'asciugatura rapida in dolore diciamo per i capelli o anche per il corpo e qui ci sono gli asciugamani avvolgenti pink flore sia per uomo adulti che per bambini sono più leggeri di un asciugamano tradizionale perché la microfibra consente un'asciugatura più rapida e i capelli soprattutto ma anche del corpo senza sfregare poi è tempo di brillare con questo orologio madreperla bisogna condividerlo perché il quadrante brillo in proprio un padre pelle bellissimo due anni di garanzia non so se ci sono le file dentro diciamo no cintoline regolabile e placatura 18 carati batteria bottone sostituibile quindi ci dovrebbe essere già poi è tempo di essere smart con lo smart watch per creare un video review per amare per amarlo perché ha un sacco di funzioni cioè attività molti sport contapassi avvisi in attività e idratazione monitoraggio del zone aggiornamenti meteo notifiche telefoniche poi viene consegnato confezione regalo notifiche social punta calorie timer per il selfie notifiche calendario controllo della musica funzione trova telefono e card offre quel simmetro anche qui c'è due anni di garanzia bracciali e i nostri bei bijoux oroscopo che di tutti i segni poi ci sono catenine per occhiali ottimi per tenere gli occhiali una mascherina da stare ed andossare come collana la lunghezza di mi sembra 80 centimetri circa i set d'anelli vado avanti un tocco di luminosità con il set amara che eccolo qua poi ci sono set anelli e orecchini irreversibili vado avanti e abbiamo diffusore a bastoncini in boccetta trasparente valser viennese che è molto carino elegante olio profumato le ricariche eccolo poi un regalo d'amore per la festa della mamma che ci sarà a maggio perché tanto si sa noi cataloghi ora sono mensili quindi il prossimo catalogo il 9 è di maggio dobbiamo fare regalo alla mamma quindi perché non fare queste serie di cassis violetta e muschio sono bruciessenze in ceramica sono serie da sciogliere eccoci profumati come molto carine e bruciessenze poi in caso si esce per stare comodamente a caso per uscire questo è uno stile perfetto questo da uno zaino molto comodo queste sono misure 29 per 9,5 per 23 cm in poliessere poliuretano scusate e poi pigiama capri che spesso anche se uscite che si vede che un pigiama fascino del deserto sempre con cotonella fantastica marca fantastico brand puramente in cotone e della stanno poliammide e c'è pigiama per lui t shirt per lei eccetera poi benvenuta primavera se le clienti amano colori fiori primaverili questo completo letto è elegante per loro un completo letto matrimoniale con un'offerta lancio ripetibile poi c'è questo però nel nuovo catalogo casa che poi registrerò eccoci con un'altra punta poi altra completo letto costanza con una stampa può lenzuolo sopra con stampa può lenzuolo sotto con angoli tinta unita fede la coordinata e ci può essere una piazza in mezzo o matrimoniale se matrimoniale ci sono due federe se una piazza in mezzo una fede era solo poi c'è il trapuntino sette d'asciugamani di tre tipi a tavola con gusto con deliziosa composizione con questi dei guardate che carini guardate che carini sono un po non lo so sono sotto la grande più se ciotolino di sette di tovagliette mandala mandala scusate o sbaglio sempre l'accento al mandala non so se lo sapete sono dei disegni particolari poi da tavola blue moon portateli che belli con la tovaglia la tovaglia dovrebbe essere di 140 per centimetro di 100 per cento cotone poi abbiamo sette di cinque nodi tre contenitori organizer mandala c'è mandala dove poi tre sacchetti cioè due sacchetti con la valvola che dovrebbero essere per il sottovuoto poi abbiamo questo che uno spremi dovrebbe essere uno spremi strano sta cosa si è un frullatore scusatemi e deve essere un frullatore a immersione forse e c'è la minacciaio inossidabile borraccia rimovibile e questo è proprio adatto per lignate picnic mini frullatore con borraccia borraccia 600 millilitri poi sette di sei bicchieri color full e griglia elettrica avanti scola pasta per pentola che trasforma le pinto le ciotole non pratico scola pasta basta agganciarlo sul bordo della pentola e si scola in modo comodo eccolo qua poi sette di cinque contenitori alimentari per conservare al meglio poi abbiamo sette di sei coperchi quadrati in silicone e poi ci sono campioncini con più cini dei rossetti campioncini di fondotinta solis contro se si vede io vado un po veloce fondotinta power stay e le fragranze queste c'è anche la novità c'è anche il sottofondo di cani perché qui siamo piani anche di cani perfetto per la festa della donna ci sono questi per campioncini poi sette campioncini per la cura della pelle per l'animo tutti miseria di creme la linea più o meno pausa offerta cataloghi particolare offerte ricordo che questo è solo per le consulenti e offerte imperdibili con sconto provvisione 20 per cento fino a tot euro insomma vabbè c'è a pagina 3 offerte esclusiva tinta labbra power stay poi pagina 150 rossetto speak up e porta rossetto e pagina 152 sacchetto regalo piccolo e sacchetto regalo medio eccoci qua tutti i sacchettini pari scusate nei corsi espositore beauty per il make up evidenziatore la borraccia misuratore d'anelli bracciali caffè onlus poi cartine porta fragranze poi burro di cacao ecco questa è una canottiera che profuma di burro di cacao un fusion body illusion molto comodi ci prendiamo cura della pelle siamo arricchiti con burro di cacao la nostra tecnologia base di burro di cacao resta attiva fino a 20 lavaggi poi offerta speciale con i diffusori alla lavanda che ha un effetto rilassante c'è diffusa della bassoncini di sacchetto profumato olio profumato e candela e molto lenitiva poi kit demo home fragrance set di 4 mini campioncini in cera fresh cotton vaniglia bin white jasmine e lavanda ma altoparlante poi ultima opportunità abbiamo la sciarpa d'anello con infuso ed aloe idratante e che dura anche questo venti lavaggi e le muffole sempre arricchito con infuso ed aloe vera idratante che dura sempre fino a 20 lavaggi di fare way anche questo sciarpa profumata arricchita col profumo esotico della nostra fragranza più venduta fare way effetto persiste per venti lavaggi poi c'è il questo che è un borsello travel organizer poi realizzata al tessuto riciclato c'è la tracolla borsa tracolla hobo 27 per 18 per 25 cm 100 per cento poli essere un'offerta speciale è data da questo bracciale con maglia anello e chiusura t e la collana lunga placati 18 carati poi c'è ultima opportunità per brillare con placati ore 18 carati perfetti per regalare anche alla mamma con una preziosissima scatolina regalo eccoli qua col simbolo di tt di today e c'è il bracciale eccetto poi andiamo avanti prova due fragranze tra avonive confidenze even brace e prive la novità e avonive truth 2 fragranze un pezzo per codice consulenti venti e consulenti socio e 16 poi offre una pelle perfetta in 7 contiene tra tante viso telly defense vitamin c spf per protezione solare 50 siero potenziatore della luminosità new radiance crema all'acqua idra provita vitamina d siero potenziatore della luminosità radiance campioncino crema all'acqua campioncino allora 27 euro per le consulenti e consulenti sono poi quattro creme motivose a scelta oltre olio di cocco nutriente motivose burro di cacao macadamia acqua di rose burro di karité avocado e melograno che meno grano contiene anche non si dà antiossidanti un pezzo per crema consulenti 10 euro consulanti socio 8 e 20 e poi ci sono mesmerize black sud avonv for victory lite gentleman ma altre fragranze da scegliere quattro fragranze un pezzo per codice e qui abbiamo finito detto ciò io vi saluto vi auguro una buona domenica e un buon sabato sera bye bye se avete se vi è piaciuto il video per favore mettetemi like ciao aspetto ciao